Sì, è Mauro anche, c'è sì. Dite cose belle che poi mi sentite la voce. Eh, si sente tutto. Tanto ci vediamo noi, no? Quindi non dire che poi diciamo quando ci vediamo lì. Ma io sono anche brutta. E io, tu almeno mi devi, sono brutta, quindi sono quell'assolio. Allora, insomma stavo dicendo che viene fra un mese. L'ultimo di giugno, forse aspetta che lui c'ha. Grazie c'è una bambina, sì, ma lei abita qui in Sardegna. E lo c'ha chiuso, sei favorito. Una bambina spinetta, bellina, cammina, si è un annoio. E Grazie si è ingrassata? No, ha dimagrita, no, si era ingrassata quando aspettava la bambina. Poi ha fatto una cura, dimagrante, ed è di nuovo normale. Lo vedo spesso con i bambini che stanno crescendo. Sì, sì, sì. Poi il marito è una cacchione, dicendo che è buca del parco. Non è ancora finito? A volte passa a fare il giro da Pianzardo. Siete passati da lì. Siete passati dalla strada. La colpa, la gente, la gente manca, Gesù, che si mi ha portato a passare. Quando sarà finita, passerete meglio. Io non ci sono mai passata, cioè ci sono passata una volta e gli ho detto a lui, beh, non mi importi più a me che ho paura, ma era la strada brutta. Io ero attesa, ero attesa stamattina, non dicevo niente perché mi presenti. Pensa che Mauro, per andare al lavoro, i primi tempi, ha sempre viaggiato lì per mesi, in tutti i turni, anche in quello di morte. Era anche la strada. Era anche la strada.